Guagliù, questo è il bene e questo è il male. Il bene è il dubbio. Quando voi incontrate una persona che ha dei dubbi, state tranquilli, vuol dire che è una brava persona, vuol dire che è democratico, che è tollerante. Quando invece incontrate questi qui, quelli che hanno le certezze, la fede ingrollabile, e a loro state accorti, vi dovete mettere paura perché ricordatevi quello che vi dico, la fede è violenza, la fede in qualsiasi cosa, è sempre violenza.